Simona, sono stufa di mangiare sano, ho bisogno di peccare un po', fammi sgarrare. Ma guarda che io sono la prima a dire che ogni tanto bisogna sgarrare. L'importante è avere una buona base, così ogni tanto lo sgarro ci sta. Oggi muoio dalla voglia di una cioccolata, con una copertura croccante e un ripieno morbido. Posso? Tutto qui? Ma sì, oggi puoi e sei anche fortunata perché la potrai mangiare senza sgarrare. Guarda come fare in questo video. Ciao amici, ogni tanto una buona notizia. Oggi non è più come un tempo quando ho iniziato io a mangiare in modo salutista quasi 30 anni fa. Allora le cose sane erano semplici e spartane e quelle golose erano piene di schifezze invariabilmente. Per fortuna l'alimentazione sana oggi è trendy, quindi possiamo toglierci qualche bello sfizio senza la paura di rovinare tutto il nostro impegno. E la notizia ancora più bella è che questi alimenti non sono solo sfiziosi, ma anche sani, proteici, ben bilanciati nei nutrienti e ci fanno bene. O almeno quelli della Foodspring, l'azienda sponsor di questo video specializzata in alimenti per la forma fisica e per il fitness. Devo dire la verità, la Foodspring sta crescendo tantissimo e sta creando, per nostra fortuna, alimenti sempre più golosi oltre che sempre più sani. Grazie Foodspring! Eh sì, puoi proprio dire grazie perché oggi ti farò assaggiare proprio quello che stavi sognando ed è una novità. Una barretta con arachidi croccanti, scaglie di cocco, morbido caramello, avvolta in un delizioso strato di cioccolata. Beh, aspetta, non esagerare, va bello sfizio, ma sarà una bomba calorica! No, e se vuoi sapere perché no, metti subito un mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. La barretta extra chocolate della Foodspring ha il 90% di zuccheri in meno, anzi, non ha zuccheri aggiunti. Ha la metà dei carboidrati, o meglio, il 60% in meno di una barretta equivalente. Contiene 8 volte più proteine per nutrire i muscoli. Sono circa 20 grammi, con la giusta percentuale anche di acidi grassi per una assimilazione ottimale, e fibre alimentari amiche della linea. Il tutto in uno spazio piccolo così, che nutre, sostiene, gratifica, con un apporto calorico decisamente ridotto fino al 30% in meno delle altre barrette. E possiamo scegliere tra tre nuovi gusti esplosivi! Arachidi, caramello e cocco, con cioccolato ipocalorico prodotto con siero di latte in polvere, senza lattosio, molto più leggero e ben tollerato. Qual è più buona? Quali mi consigli? Ah, io le ho prese tutte! Anzi, hai visto? Ho fatto scorta e me le sto gustando un po' alla volta! Le mangio come snack in studio, come soluzione quando viaggio, dopo lo sport, come spuntino del pomeriggio, o come dessert dopo cena. A dire la verità, adesso che ci penso, trovo sempre un momento buono per queste barrette. E le mangio volentieri, perché sento che non mi gonfiano, non ingrassano, mi danno energia, nutrono e saziano, senza appesantirmi, neanche con i sensi di colpa. Ma adesso ce le fai assaggiare, anche a squaletto che gli è venuta l'acquolina nelle fauci. Aspetta! È buonissima! Posso sgarrare senza sgarrare quando voglio! E anche nutrirmi in modo sano, ma è fantastico! Vabbè, assaggia! Eh, mi piace! Come non potrebbe! Anche a me! Mi raccomando, quando ordinate le vostre barrette dal sito della Foodspring, inserite il codice Vignali minuscolo YT maiuscolo. Così la Foodspring vi fa uno sconto del 15%. Niente male, vero? In descrizione il link al sito, alle istruzioni per il codice sconto e alla pagina di queste barrette. Anche voi, amici, gratificatevi, ma senza farvi male con le schifezze industriali. Nutritevi in modo sano e condividete questa buona notizia condividendo il video. In descrizione vi lascio il link alla playlist con tutti i prodotti sani della Foodspring. E già che ci siete, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e most important, abbonatevi per sostenere anche voi lo stile di vita trendy e sano. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Andava bene. Oggi puoi e se hai anche fortuna... Sarà una bomba calorica!